Sacro e profano, tempo storico e grande disegno sembrano combinarsi variamente nella cronaca di queste ultime giornate che ha vissuto la Chiesa, le dimissioni fatte inedito per il nostro tempo di Papa Ratzinger e le reazioni che questo ha suscitato. La prima domanda che volevamo rivolgerti era questo, perché dovrebbe interessare a chi non è credente, a chi non è parte dell'Ecclesia queste vicende e quanto sta succedendo? C'è una ragione come dire storica di lungo periodo e ci sono ragioni più attinenti all'epoca che si è aperta, all'epoca che viviamo. Tutti dovremmo sapere che appunto la Chiesa non è soltanto come crede un pensiero secolarizzato da catto semplicemente un'autorità di tipo religioso. Non lo è stato, non lo sarà mai. Credo che siamo tutti abbastanza disincantati da sapere che appunto la connessione tra dimensione pubblica e dimensione privata è consostanziale all'esperienza religiosa. L'idea che ci possa essere una religione come fatto privato, addirittura fatto del cuore, fa parte delle idiozie totali di una certa modernità. Quindi è bene sapere che la religione sempre, non soltanto quando si parla di fondamentalismo islamico, la religione sempre è un fatto altamente politico, anzi diciamo è il fatto politico, perché se politica significa costruire nazioni, costruire popoli sulla base di grandi progetti, bisogna sapere che per fare un popolo finora la storia insegna che l'elemento religioso è assolutamente fondamentale imprescindibile. Cioè i popoli, le nazioni, le grandi direi antropologie politiche le fanno i profeti, non le fanno i politici. Quindi è bene sapere che la nostra storia è segnata da questa presenza anche della Chiesa come forma politica. Il grande problema è che la Chiesa come forma politica ha tempi, non soltanto strutture organizzative ovviamente, ma tempi completamente diversi rispetto ai tempi della politica. E questo crea una continua contraddizione, una inevitabile contraddizione, perché i tempi dell'organizzazione politica della Chiesa non si combinano mai, non possono mai combinarsi con i tempi della politica. Perché? Ma perché la forma politica della Chiesa dura, e sta durando da duemila anni così per ridere, dura perché vuole dar forma, tenere in forma, organizzare il suo popolo che è metanazionale, che è transnazionale, che quindi è già tutto pensato in una prospettiva di globalizzazione, deve tenere in forma questo suo popolo per un fine ultimo, che in quanto tale, proprio diciamo, ontologicamente non coincide con il fine dell'organizzazione politica. E quindi la Chiesa può riconoscere legittimità l'organizzazione politica soltanto nella misura in cui ne vede la coerenza con il proprio fine ultimo. e quindi inevitabilmente tenderà sempre a subordinare al proprio fine, che si dà anche come organizzazione politica, subordinare al proprio fine i fini della politica. E questo creerà e crea e ha sempre creato e creerà sempre inevitabilmente conflitto e contraddizione, che si può mediare, che non si può mediare a tavolino, come dire, sulla base di concetti o forme a priori, è che si può mediare soltanto di volta in volta, cioè la Chiesa cercherà sempre il compromesso con l'organizzazione politica, l'organizzazione politica cercherà sempre in qualche modo il compromesso della Chiesa, i grandi liberali l'hanno sempre saputo, Tocqueville lo sapeva, bisogna cercare il compromesso con l'organizzazione della Chiesa, nella consapevolezza di questa contraddizione. Quindi chiunque voglia fare politica laico, laicamente, non credente, credente, non credente, ma chiunque deve fare politica, deve sapere e riconoscere la necessità di cercare ogni volta nelle condizioni storiche determinate un compromesso con l'organizzazione politica e metapolitica rappresentata dalla Chiesa. Questo è realismo politico, questa è consapevolezza politica e pecca di totale irrealismo e quindi non è politico, quello che pensa è che dice no, tu Chiesa pensa soltanto a te come autorità religiosa, confessa le anime, prometti il regno dei cieli, eccetera, eccetera, il resto non è compito tuo. Questo è semplicemente un modo ridicolo di affrontare il problema. Ecco, allora è bene che sappiano tutti, anche coloro che si dichiarano credenti, atei, quello che vuoi, e che magari sono in conflitto aperto con la Chiesa. Benissimo, conflitto aperto con la Chiesa. Quante volte abbiamo visto nella storia conflitti aperti con la Chiesa. Ma riconoscere questo conflitto è necessario, questo è il punto. Io credo che sostanzialmente il punto di vista della Chiesa e in generale proprio della cristianità nei confronti del potere politico sia proprio, si possa veramente esprimere questo concetto di questa forza che trattiene, che tiene il catecono, di cui nella lettera ai tessalonicesi di Paolo. Perché? Perché la Chiesa è orientata necessariamente a riconoscere legittimo quel potere politico che non voglia assumere, non tende ad assumere alcuna configurazione di autentica auctoritas e nello stesso tempo che amministra bene, amministra al servizio di ciò che può essere un bene comune. Cioè la Chiesa... La Chiesa cori a questa distinzione medievale tra auctoritas e potestas, no? Sì, la Chiesa è proprio esigenza fondamentale sua, inconsciamente corre in questa direzione, cioè tu, potere politico, sei ministro, amministri. Cioè la visione che la Chiesa ha del potere politico è sostanzialmente una funzione amministrativa di contenimento del male. Lo diceva anche Simon Veil, no? Cioè la funzione del potere politico è contenere il male, arrestare il male. Punto. Perché per quanto riguarda invece i fini ultimi ci penso io. Quindi legittima l'autorità politica, ma come forza, come potenza catecontica. Ora questo crea una contraddizione irrisolvibile perché è palese. Da un lato che il potere politico per sua natura tenderà a essere più che mera potestas e più che mera amministrazione. Ma dall'altra parte, se si riduce a mera amministrazione non riuscirà neanche più a contenere il male. Perché un potere puramente amministrativo non avrà mai l'autorevolezza necessaria davvero per contrastare efficacemente il male. Quindi la Chiesa si trova di fronte a questa contraddizione di volere un potere catecontico e questo potere catecontico in forma pura non è mai realizzabile. E anche allorché vi fosse un potere catecontico ecco che la Chiesa dovrebbe immediatamente denunciarlo in quanto impotente a contenere il male. Quindi da un lato la Chiesa vuole potere catecontico ma dall'altra esigerebbe sempre impero. A mio avviso sono tutte contraddizioni assolutamente irrisolvibili. Sono contraddizioni tragiche che segnano la storia europea. Però la cosa straordinaria di questa storia è che almeno fino ad oggi si è trovato il modo di realizzare dei compromessi che non hanno eliminato la contraddizione. Perché la contraddizione secondo me è ineliminabile. Però hanno permesso appunto di realizzare armistizi. Si è proceduto per armistizi. La contraddizione, le armi rimangono. Ma se è per pause, per armistizi, per intervalli di pace. E bisogna essere molto abili. Occorrono dei papi pontefici estremamente abili e degli politici che sanno equilibrare tra volontà imperiale e capacità amministrativa. A volte ci sono trovati queste capacità da una parte dall'altra. A volte non si trovano e quando non si trovano sono le grandi guerre.